È tempo di Weekly Notable. Riviviamo insieme la prima giornata della Serie A Unipolsai. Segnare un canestro che brucia la sirena? Di solito è già una piccola impresa. Ma farlo due volte nella stessa partita significa avere qualità rare. È il caso di Alessandro Lever, che impreziosisce la travolgente vittoria di Napoli a Sassari con due canestri allo scadere. Da sotto nel primo quarto e da oltre l'arco al tramonto del secondo. Per l'ex Trieste, il miglior debutto possibile con la maglia della Gevi. I grandi campioni, si sa, danno il meglio nei momenti chiave del match. E Nicola Mirotic ha aspettato la fase clou della partita contro Treviso per lasciare il suo marchio. Dopo aver preso le misure nei primi tre quarti, l'ex Barcellona segna nove punti negli ultimi quattro minuti, quelli decisivi per risolvere la sfida del forum. Un mix di movimenti immarcabili e tiri liberi guadagnati con furbizia ed esperienza. L'esordio che ti aspetti da un numero uno. Per far gioire la sua nuova squadra ha dovuto provocare un dispiacere a quella in cui ha mosso i primi passi sulle orme del padre Paolo. Davide Moretti è l'uomo simbolo del comeback di Varese, che piega Pistoia, rimontando da meno 13 a 9 minuti e 30 dalla fine. Quattro dei suoi 16 punti sono i più pesanti del match. Tripla del pareggio con poco più di un minuto da giocare e tiro libero della vittoria a 51 secondi dalla fine. Niente male come scherzetto dell'ex. Difesa asfissiante sul perimetro e giocate di classe dell'ultimo arrivato. È la ricetta con cui Venezia supera l'ostacolo Tortona. La Bertram sfiora i minimi storici, sbagliando tutte le 19 triple tentate. Mentre l'umana si gode Kyle Wiltshire. Doveva essere la soluzione d'emergenza dopo l'improvviso dietro front di Bruno Caboclo. Si è rivelato l'uomo giusto per far girare al meglio l'attacco della Reier.